L'estate è tempo di pomodori. Oggi lo ripiene di riso, una ricetta tradizionale arricchita con un tocco speciale. Il caciocavallo arrostito. Per iniziare ho lavato i pomodori. Di solito ci vogliono questi rotondi, ma io ho utilizzato tutti quelli che avevo nell'orto. Li ho tagliati in questo modo e tolto la polpa. Ho poi frullato la polpa di pomodoro con aglio e basilico e ho condito con olio e sale. Ho poi utilizzato un cucchiaio di riso per ogni pomodoro. L'ho sciacquato e condito con la salsa di pomodoro e lasciato riposare per circa un'ora. In una teglia oleata ho disposto i pomodori, li ho riempiti di riso e li ho messi al forno a 180 gradi per circa un'ora. Una volta cotti, li ho fatti raffreddare un po'. Secondo me sono più buoni. Ho arrostito il caciocavallo e ho assemblato il piatto, per dare così più sapore e contrasto. Ecco fatto! Buon appetito! Buon appetito!